ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco anoro glaxo smith clean spa ultimo aggiornamento 6 ottobre 2021 cos'è anoro confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere anoro durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cos'è anoro anoro è un farmaco a base del principio attivo omeclidini bromuro più vilanterolo appartenente alla categoria degli farmaci per le malattie ostruttive delle vie respiratorie adrenergici più anticolinergici e nello specifico adrenergici in associazione con anticolinergici incluse triple associazioni con corticosteroidi è commercializzato in italia dall'azienda glaxo smith clean spa anoro può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni anoro 55 mcg barra 22 mcg polvere per inalazione pre dosata 1 inalatore 30 dosi informazioni commerciali sulla prescrizione titolare glaxo smith clean e irland limited concessionario glaxo smith clean spa ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe a principio attivo un meclidini bromuro più vilanterolo gruppo terapeutico farmaci per le malattie ostruttive delle vie respiratorie adrenergici più anticolinergici forma farmaceutica polvere per inalazione indicazioni anoro e lipta è indicato come trattamento broncodilatatore di mantenimento per alleviare i sintomi nei pazienti adulti con broncopneumopatia cronico-ostruttiva posologia posologia adulti la dose raccomandata è una inalazione di anoro e lipta 55 22 microgrammi una volta al giorno al fine di mantenere la broncodilatazione anoro e lipta deve essere somministrato ogni giorno alla stessa ora la dose massima è pari ad una inalazione di anoro e lipta 55 22 microgrammi una volta al giorno popolazioni speciali pazienti anziani nei pazienti di età maggiore di 65 anni non è richiesto alcun aggiustamento della dose compromissione renale nei pazienti con compromissione renale non è richiesto alcun aggiustamento della dose compromissione epatica nessun aggiustamento della dose è necessario nei pazienti con compromissione epatica lieve o moderata l'uso di anoro e lipta non è stato studiato in pazienti con compromissione epatica severa e deve essere usato con cautela popolazione pediatrica non c'è alcuna indicazione per l'utilizzo di anoro e lipta nella popolazione pediatrica sotto i 18 anni di età nell'indicazione di bco modo di somministrazione anoro e lipta è solo per uso inalatorio le istruzioni per l'inalatore da 30 dosi riserva per 30 giorni descritti di seguito si applicano anche all'inalatore da 7 dosi riserva per 7 giorni l'inalatore e lipta contiene dosi pre dosate ed è pronto all'uso l'inalatore è confezionato in un vassoio contenente una bustina di essiccante per ridurre l'umidità l'essiccante deve essere gettato via e non deve essere aperto mangiato inalato il paziente deve essere avvertito di non aprire il vassoio fino a quando non è pronto per inalare la dose l'inalatore sarà nella posizione chiusa quando viene estratto per la prima volta dal suo vassoio sicilato la data di eliminare entro deve essere scritta sull'etichetta dell'inalatore nello spazio apposito la data di eliminare entro e sei settimane dalla data di apertura del vassoio dopo questa data l'inalatore non deve più essere usato il vassoio può essere eliminato dopo la prima apertura se il coperchio dell'inalatore viene aperto e chiuso senza che venga inalato in medicinale la dose sarà perduta la dose mancata sarà mantenuta all'interno dell'inalatore in maniera sicura ma non sarà più disponibile per essere inalata non è possibile assumere accidentalmente medicinale in più o una doppia dose in un'unica inalazione istruzioni per l'uso a come preparare una dose aprire il coperchio quando si è pronti ad inalare una dose non agitare l'inalatore far scorrere il coperchio verso il basso finché non si sente un click il medicinale è ora pronto per essere inalato il contatore delle dosi conta alla rovescia di 1 per conferma se il contatore di dosi non conta alla rovescia quando si sente il click l'inalatore non rilascerà la dose e dovrà essere riportato al farmacista per un consiglio b come inalare il medicinale l'inalatore deve essere tenuto lontano dalla bocca espirando fino a che possibile senza espirare nell'inalatore il boccaglio deve essere posto tra le labbra e le labbra devono essere chiuse fermamente intorno ad esso durante l'uso le prese d'aria non devono essere ostruite con le dita inalare con una lunga costante e profonda inspirazione questo respiro deve essere trattenuto il più a lungo possibile almeno 3 4 secondi rimuovere l'inalatore dalla bocca espirare lentamente e delicatamente potrebbe non essere possibile avvertire alcun gusto del medicinale né avvertirne la consistenza anche quando si utilizza correttamente l'inalatore prima di chiudere il coperchio si può pulire il boccaglio usando un panno asciutto chiudere l'inalatore far scorrere il coperchio verso l'alto fino in fondo per coprire il boccaglio controindicazioni ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 61 avvertenze speciali e precauzioni di impiego asma un meclidinio barra bilanterolo non deve essere utilizzato in pazienti con asma poiché non è stato studiato in questa popolazione di pazienti broncospasmo paradosso la somministrazione di un meclidinio barra bilanterolo può produrre broncospasmo paradosso vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione i beta bloccanti i medicinali contenenti beta bloccanti adrenergici possono indebolire o antagonizzare l'effetto degli agonisti beta 2 adrenergici come vi lanterolo l'uso concomitante dei beta bloccanti adrenergici sia non selettivi che selettivi deve essere vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere anoro insieme ad altri farmaci come daronavir accord compresse rivestite daronavir orobindo compresse rivestite daronavir dottor redis compresse rivestite daronavir e g daronavir crca compresse rivestite daronavir milan compresse rivestite daronavir sandos compresse rivestite daronavir teva daronavir zentiva compresse rivestite prezista compressa prezista sospensione rizzolsta sintuza eccetera chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere anoro durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere anoro durante la gravidanza e l'allattamento gravidanza non vi sono dati riguardanti l'uso di un meclidinio barra bilanterolo nelle donne in gravidanza gli studi su animali hanno evidenziato una tossicità riproduttiva a disposizioni non clinicamente rilevanti dopo somministrazione di vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari sia un meclidinio che bilanterolo non alterano alterano in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari effetti indesiderati riassunto del profilo di sicurezza la reazione avversa riportata più frequentemente con un meclidinio barra bilanterolo è stata la naso faringite 9 per cento tabella delle reazioni avverse il profilo di sicurezza di annoro e lipta si vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it sovradosaggio un sovradosaggio di un meclidinio barra bilanterolo produrrà con elevata probabilità segni e sintomi dovuti alle azioni dei singoli componenti coerenti con le reazioni avverse note degli antagonisti muscarinici per via inalatoria ad esempio secchezza delle fauci disturbi di accomodazione visiva e tachicardia o con le reazioni avverse da sovradosaggio di altri beta 2 agonisti adrenergici ad esempio ritmie tremore mal di testa palpitazioni nausea iperglicemia epocaliemia in caso di sovradosaggio il paziente deve essere supportato da un monitoraggio adeguato secondo il bisogno proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica farmaci per le malattie ostruttive delle vie respiratorie adrenergici in combinazione con anticolinergici ivi comprese triplici associazioni con corticosteroidi codice atc r03 al 03 meccanismo di azione un meclidinio barra bilanterolo e una proprietà farmacocinetiche quando meclidinio e bilanterolo sono stati somministrati in associazione per via inalatoria la farmacocinetica di ciascun componente è stata simile a quella osservata quando ciascuna sostanza attiva è stata somministrata dati preclinici di sicurezza negli studi preclinici con meclidinio e bilanterolo in monoterapia in associazione i risultati sono stati quelli tipicamente associati con la farmacologia primaria sia degli antagonisti dei receptori muscarinici che elenco degli eccipienti lattosio monoidrato magnesio stiarato farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di anoro a base di un eclidinio bromuro più bilanterolo sono la venta in fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato